Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. Venerdì 20 settembre a Sgurgola dalle 19 nel Centro Storico, appuntamento con la Cena dei Mille, con rievocazione storica, spettacolo acrobatico e spettacolo musicale. Ad Aquino, venerdì e sabato dalle 18 nel Borgo Medievale, la Proloco presenta l'ottava edizione di Borgo di Vino, percorso enogastronomico con 8 cantini e 12 vini in bottiglia in degustazione, 36 stand gastronomici con 70 piatti tipici, giociari e musica live, acquista il bicchiere in terracotta e bevi quanto vuoi. Sabato 21 ad Arpino dalle 10 presso la Fondazione Mastroianni, appuntamento con l'evento Arpino Naturalmente, storie e sapori della città di Cicerone con visita guidata alla Fondazione, presentazione, libro e video, Cooking Show e degustazione di prodotti tipici, giociari. A Santo Padre dalle 15.30 in Piazza Marconi, la parrocchia organizza l'evento di beneficenza aperitivo con il trattore, che si concluderà alle 21 con l'aratura in notturna. A Pastena, sabato e domenica presso il Campo Sportivo, appuntamento con Pastena Motor Show, auto rally, auto d'epoca, moto, track, spettacolo trial e altro ancora. Domenica 22 a Castro Cielo, alle 18 presso l'area archeologica di Aquinum, la DMO Terra dei Cammini presenta Concerto al tramonto del chitarrista Federico Ciancabilla. Per inviare le vostre segnalazioni scriveteci a weekendchiocciolateleuniverso.it